Cattro per te, solo per te, dai Catania! Torre del Grifo, Catania Calcio, tra qualche minuto ci sarà Cristiano Lucarelli ed è molto che non lo vedevamo qui in sala stampa, chissà cosa ci dirà. Mister, sei sereno, tranquillo, sei carico, ti accingi a una bellissima partita perché se il Siracusa ha battuto il Monopoli, che ha battuto il Catania di conseguenza noi dobbiamo battere il Siracusa e chiudere un cerchio. Nonostante qualunque tipo di gioco, dal 4-3-3 più statico, dal 3-5-2 più dinamico quello che conta è il gioco, quello che conta è segnare quello che conta è che i giocatori diano l'anima per la maglia. Sì, penso che questa partita, allora, sereno, tranquillo e carico più che mai. Ora addirittura mi sento un kamikaze, quindi da quel punto di vista lì si riparte più forti di prima, con più certezze di prima, almeno per quanto mi riguarda. È chiaro che, come dici te, domenica non sarà una questione di moduli, non sarà una questione di formazioni o di schemi, ma credo sia una partita dove bisogna rivendicare un po' il nostro essere maschi. Devono emergere delle qualità che, dopo quello che ci è accaduto a Monopoli, hanno la priorità rispetto a ogni discorso tattico, a ogni discorso tecnico. Quindi da parte di tutti noi ci deve essere la voglia di riscattare una giornata che, come ho detto subito, accalda a fine partita. Io personalmente, se un giorno anche dovessi allenare il Real Madrid, credo che una giornata come quella di Monopoli non possa più essere scordata, non possa più essere dimenticata. E quindi siamo chiamati a mostrare la nostra masculinità nella partita di sabato, senza sé e senza mai. La situazione dell'infermeria? L'infermeria ultimamente non mi è molto simpatica, però, diciamo, soprattutto la scorsa settimana abbiamo lavorato praticamente spesso in 14-15 unità, perché tra problemi post partita, influenze varie, siamo sempre stati un po' acciaccati. Anche questa settimana, purtroppo, non abbiamo lavorato sempre a ranghi incompleti, e quindi dobbiamo fare delle valutazioni per ciò che concerne il recupero dei mezzi e mezzi, come li chiamo io, no? Quelli che sono, al di là dei lungo degenti, gli infortunati lungo corso, poi abbiamo dei giocatori, anche negli ultimi giorni abbiamo avuto dei calciatori colpiti dall'influenza, dal virus, e quindi vanno valutati fino all'ultimo momento. Giovanni, fino a che ora la Sicilia? Le chiedo, ci sono state delle partite in cui il Catania ha dovuto giocare conoscendo il risultato del Lecce? Ci sono state delle partite in casa e in trasferta, poi è andata bene a volte, a volte no. Adesso, invece, arriva conoscendo la sconfitta, che sembrava non dovesse arrivare mai, la sconfitta che ha patito la scorsa settimana il Lecce. Aggiungo che anche col Cosenza, in Coppa Italia, il Lecce non ha fatto quello che aveva fatto prima. È un momento in cui il Catania deve approfittarne, non abbiamo mai parlato di classifica, di ambizioni, però è chiaro che adesso la gente si chiede, ma se il Lecce è in crisi, il Catania che fa? Questa cosa che anche i giocatori hanno non subito, hanno notato anche psicologicamente, adesso sembra possa ribaltarsi. Ne avete parlato o che cosa ne pensa? Noi abbiamo parlato che abbiamo una sola certezza, una quasi certezza, che se dovessimo vincere tutte le partite che rimangono, al 99% siamo in Serie B direttamente. Detto questo, noi abbiamo preparato, e quindi le prepareremo una alla volta, senza fare le previsioni di Filotti, perché non porta neanche tanta fortuna, una partita alla volta, come ci hanno chiesto anche i nostri tifosi recentemente, prepararle tutte per vincere, ma come abbiamo fatto anche le prime 26, cioè noi prepariamo ogni partita per vincerla, a volte a costo anche di perderla. È il nostro slogan, cercare da ogni partita di ottenere il massimo, non ci possiamo permettere di scegliere il piatto dove mangiare, dobbiamo cercare di mangiare su tutti i piatti, che troveremo da qui alla fine del campionato. Quindi noi, tutte le partite sono preparate per vincere le partite. Voi avete detto prima, che ora sono, tra virgolette, attaccato perché cambio spesso. No, io, noi nello staff siamo sette, abbiamo due preparatori atletici, ho due allenatori in seconda, che per norme federali uno viene individuato come allenatore in seconda, l'altro come collaboratore tecnico. Più ho un match analyst, e il preparatore dei portieri. In totale sembrerebbe che siamo sette, in realtà noi siamo otto. Abbiamo un altro collaboratore, si chiama GPS. Il GPS è un qualcosa che ogni calciatore, in ogni allenamento ha. E alla fine della seduta ci dice quanti metri ha percorso durante l'allenamento, a quale intensità ha percorso quei metri, quale volume alla fine della settimana quel calciatore ha. Quindi è chiaro che per noi quello è non il 100%, perché poi si deve anche differenziare da caratteristiche a caratteristiche. Lodi, per esempio, non avrà mai le caratteristiche di Porcino o di Di Grazia. Quindi è chiaro, Lodi entrerà in un range diverso rispetto a loro. Ma a noi quello ci dice molto, perché noi da lì capiamo la condizione dei giocatori. Perché se io, alla fine, il volume di una settimana di lavoro è 40 km e uno me ne ha percorsi 18, è chiaro che te capisci che c'è qualcosa che non va. Quindi noi siamo per premiare quelli che durante la settimana ci danno delle risposte importanti. Detto questo, poi magari arriviamo alla domenica e succede il contrario di tutto quello che abbiamo visto durante la settimana. Noi purtroppo la formazione la dobbiamo fare un'ora e mezzo prima, anzi no, ci sono allenatori che la fanno dal mercoledì. Io per tenere tutti sulla corda io la formazione la do un'ora e un quarto prima, durante la settimana non do riferimenti, perché voglio coinvolgere tutti i nostri 25 calciatori. Perché quando te fai gol con 16 giocatori diversi vuol dire che te sei riuscito a gestire una rosa fatta di calciatori importanti dando a tutti il giusto spazio e la giusta possibilità di esprimersi. E quello secondo me è una cosa importantissima perché come vi ho sempre detto io l'appuntamento è all'ultima curva per risponderti alla domanda. Io ho sempre detto fly down appuntamento all'ultima curva e sono convinto più che mai alla luce dei risultati ma non solo del nostro girone ma anche di quelli che ho visto negli altri gironi. Livorno aveva più 12 sul Siena ora è sotto per dare un dato. Quindi questo cosa testimonia? E l'Alessandria. L'Alessandria l'anno scorso ma ce ne sono tantissimi di esempi di squadre. Allora io dico che nei momenti di difficoltà dobbiamo essere compatti. Noi tutti tifosi le cinque componenti come le chiama l'omonaco non si può perdere tempo a litigare tra di noi. Ci abbiamo tutti insieme cose più importanti a cui pensare. Allora vende solo vende la cattario